Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube, siamo oltre 124.000 iscritti, per cui grazie e continuate ad iscrivervi. Bentornati anche sulla pagina Facebook, qui siamo oltre un milione e mezzo di iscritti. Ci sono molte, molte cose da dire, chissà che davvero non sia possibile oggi un negoziato, io me lo auguro con tutto il cuore e occorre secondo me adesso unire i punti per non essere vittime delle solite propaganda. Vorrei partire dalla dichiarazione ieri Mark Milley, capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Americane, il quale ha dichiarato testuale, la probabilità di una vittoria militare ucraina che includa l'espulsione dei russi da tutto il paese, compresa la Crimea, è militarmente bassa. Aggiunge poi che forse oggi può essere, dato che si sta avvicinando l'inverno, con una possibile riorganizzazione delle truppe russe e con anche la conclusione della mobilitazione che venne annunciata da Putin qualche mese fa e che non è stata completata ancora, non posso essere questo il momento utile per i negoziati, me lo auguro con tutto il cuore. Noto da parte americana che stanno un po' cambiando i toni e ora che loro parlano di negoziato vedrete che anche persone che fino a ieri definivano tutti coloro che osavano parlare di negoziato putiniani, vedrete che cambieranno la linea perché i padroni dell'Europa e soprattutto di alcune forze politiche in primis italiane hanno parlato e quindi vedrete che in tanti si stanno parlando e iniziando a parlare in tanti probabilmente si accoderanno. Quello che è successo in questi nove mesi a danno di coloro che hanno semplicemente utilizzato il cervello e hanno detto le stesse parole più o meno che sta dicendo oggi il capo di maggiore esercito americano, sono stati definiti putiniani, sono stati infamati, derisi, vilipesi, trattati come collaborazionisti del Kermelino, tutti coloro che ritenevano impossibile una sconfitta militare della Russia, quantomeno definitiva, o meglio ritenevano che cercare la sconfitta militare della Russia fosse estremamente pericoloso, tutti coloro che sostenevano questa tesi sono veramente stati attaccati in modo vergognoso da parte della maggior parte della stampa italiana e anche di moltissimi politici, soprattutto politici dell'area PD, Calenda, eccetera, eccetera. Veramente una vergogna quel che è successo dal punto di vista proprio della libertà di opinione, perché poi è evidente, si concede la possibilità di parlare, io ho sempre detto la mia senza alcun timore, ma le randellate mediate che sono arrivate a tutti coloro che appunto hanno espresso un parere tra l'altro maggioritario nella pubblica opinione italiana, ma dissimile da quello di establishment, le randellate che sono arrivate hanno esittito tante voci, come dire, ne colpiamo tanti, siamo violenti negli attacchi, così chi ha spalle larghe, esperienza anche nel gestire determinati attacchi continuerà a parlare, ma in tanti resteranno in silenzio e questo ci converrà al fine, diciamo, per sostenere la nostra propaganda. Adesso mettiamo in relazione le dichiarazioni appunto di Marchinelli e di ieri, con questo, questo è un articolo della stampa, pubblicato l'8 maggio del 2022, la stampa fa parte del gruppo Gedi, quindi El Canagnelli, Repubblica per intenderci, il gruppo Gedi, a sua volta è il proprietario del gruppo Gedi, la finanziaria Exor, la finanziaria appunto degli El Canagnelli, che è proprietaria anche di Eco-Defense Vehicles, che è, credo, la terza industria, diciamo, fabbrica che produce anche armamenti in Italia. Articolo della stampa, 8 maggio 2022, la Nato corregge Zelensky, la Crimea è incedibile, la Nato corregge Zelensky, se il Presidente ucraino Zelensky aveva messo sul piatto la disponibilità a rinunciare alla Crimea a trattare sul Donbass, cosa che io personalmente dico da mesi, probabilmente dal primo giorno dell'invasione, ieri il Segretario Generale della Nato è intervenuto dicendo che no, l'Alleanza Atlantica non accetterà mai nella nessione illegale della Crimea nel controllo russo sul Donbass e l'est dell'Ucraina, mai l'Alleanza Atlantica, la Nato e gli americani, 8 maggio 2022, è una, diciamo, delle dichiarazioni del maggio scorso riportate dalla stampa che vanno in contrasto con quel che ha detto, per me in maniera saggia, ieri il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate americane. Qual è il tema? Che forse oggi che gli americani hanno ottenuto più o meno tutti gli obiettivi strategici, perché la geopolitica non ha nulla a che vedere con l'etica, dove sono tutti coloro che per mesi sostenevano finché non ci sarà la cacciata di tutti i russi dal suolo ucraino, non arriveremo mai alla possibilità di sederci a un tavolo, dove sono tutti questi illustri sostenitori appunto dei diritti, anche sacrosanti, di un popolo chiaramente difendersi il sacrosanto, dove sono? Tra l'altro, per inciso, io ho scritto ieri un pezzo sulla Palestina, rispetto alla, in Palestina la sioma c'è un paese invaso, è un paese invasore e il paese invaso si difende, i cittadini che subiscono l'invasione, l'occupazione militare si difendono, lì questa sioma non funziona, lì si tace, invece funziona in altri luoghi, perché? Perché interessa la Nato. E oggi probabilmente agli americani inizia ad interessare la possibilità di un negoziato, proprio perché hanno ottenuto tutti gli obiettivi strategici e anche economici. Ve ne elenco qualcuno. L'obiettivo delle sanzioni, io lo sto dicendo da mesi, non era quello di far sedere Putin al tavolo dei negoziati e neppure quello di far crollare l'economia russa, che non è crollata, ha avuto dei contraccolpi senz'altro, li ha avuti enormi contraccolpi anche l'economia europea, in particolare la Germania, l'obiettivo delle sanzioni era colpire non la Russia, ma l'unione economica tra Russia e Europa, ovvero la possibilità di costruire, di rafforzare sempre di più l'unione tra una grande potenza industriale, tecnologica, diciamo anche culturale, l'unione europea, con una grande potenza energetica, la Russia. Separare Russia e Unione Europea, l'obiettivo strategico degli americani, tant'è che si sono opposti da subito ai progetti Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Nord Stream 1 venne inaugurato ben prima anche della crisi dell'Euromaidan, del colpo di Stato che venne fatto appunto a Kiev nel 2014 e poi successivamente ricorderete la Merkel quando stava pensando di raddoppiare il gasdotto Nord Stream appunto con il Nord Stream 2 e raggiungere degli accordi con Gazprom, con il governo russo per aumentare il flusso di gas russo direttamente in Germania senza far passare il gas attraverso Bielorussia, Polonia e Ucraina, la Merkel viene intercettata dai servizi segreti americani perché l'obiettivo americano era quello di separare, tagliare del tutto questo cordone, il legame economico-politico tra Russia e Unione Europea. Obiettivo raggiunto. Non si parla più dei sabotaggi ai gasdotti Nord Stream, strano, non se ne parla più, se ne parla molto molto poco, ci sono difficoltà per arrivare alla verità, mentre invece immediatamente si è riusciti grazie a Dio a scongiurare anche il pericolo di una terza guerra mondiale appunto rispetto ai missili arrivati in Polonia. Subito gli americani sono stati cauti, molto di più poi ci arriverò di politici italiani, giornalisti italiani che evidentemente erano quasi eccitati dal fatto che la Russia avesse potuto attaccare la Polonia con dei missili. Avete visto Putin e il nuovo Hitler e voleva invadere la Polonia esattamente come fece Hitler? Avete visto non lo diciamo da mesi, serve una risposta ma ci arriverò militare sempre più compatta, invece gli americani grazie a Dio e anche perché sono pragmatici, a differenza degli europei che hanno fatto gli interessi degli americani e con gli americani una volta ottenuti una serie di risultati oggi iniziano a cambiare i toni. Ovviamente continuano a condannare, ovvio, l'invasione russa dell'Ucraina ma non ci sono le prove che i missili siano russi, anzi i missili sono ucraina, hanno zittito Zelensky che inizia a diventare un problema. Mesi fa chiunque abbia usato criticare Zelensky, perché il personaggio a me non è mai piaciuto, politicamente l'ho sempre visto, non lo so, e per me era molto pericoloso sostenere quasi che fosse il nuovo De Gulle, parlava ovunque, ricevuto da tutti i parlamenti, si collegava in ogni manifestazione politica anche non politica, per me era pericoloso perché poi io non lo conosco ovviamente, nessuno sa chi sia realmente Zelensky e comunque secondo me in questi mesi abbiamo avuto prova che spesso Volentieri non è stato all'altezza e oggi gli americani, già lo stanno facendo da alcune settimane, iniziano a raffreddare i rapporti con lui. Tornando appunto agli obiettivi, mettiamoli tutti assieme, il taglio delle relazioni economiche e politiche tra l'Unione Europea per colpire soprattutto la Germania, perché i rapporti negli ultimi anni con la Germania non sono stati buoni, vi ricorderete anche le critiche fatte dalla Merkel proprio in quei mesi in cui si venne a sapere che appunto era stata intercettata agli americani. Ricorderete le enormi ingerenze che gli americani appunto hanno espresso rispetto appunto al Nord Stream, ben prima Blinken, lo stesso Biden, la Victoria Nuland, hanno tutti quanti sostenuto che qualora la Russia avesse invaso l'Ucraina il Nord Stream non si sarebbe più stato. Siamo in grado di in qualche modo, in un modo o in un altro, di bloccare il progetto. Perché? Perché agli americani conviene, mettiamo anche questo in relazione con le parole anche che ha pronunciato Macron, ma come? Paghiamo il gas liquido americano quattro volte il prezzo di mercato, quattro volte il prezzo diciamo che impongono, con il quale lo vendono nel mercato interno e che alleati sono? Parole di Macron, gli americani hanno tagliato la possibilità di aumentare il flusso di gas russo, un gas più economico, si dice anche di maggiore qualità e che arrivava direttamente in Germania, il motore dell'economia europea, tra l'altro il paese al quale noi economicamente siamo maggiormente legati, per vendere sempre più gas. E la Meloni esce fuori con delle dichiarazioni dopo il meeting di Bali, dicendo ho parlato con Biden, possiamo discutere del prezzo e loro sono disponibili a venderci più gas. Ovvio che sono disponibili a venderci più gas. Era questo l'obiettivo americano, vendere più gas. Lo stanno vendendo sempre più ad un prezzo altissimo, poi il prezzo vedrete che nei prossimi mesi scenderà, ma comunque è cambiata la geopolitica dell'Europa. L'Europa oggi è un continente che non esiste più, anche qui la retorica che ci hanno raccontato per mesi, un'Europa unita, unita, Putin ha unito l'Europa, finalmente non siamo mai stati così uniti. Di nuovo divisi su tutto, sull'energia, sul gas, sull'immigrazione, sulle politiche economiche, sui trattati, divisi su un tutto, perché l'Europa oggi è un continente che non esiste, ancora più vittima poi di ingerenze altrui. Oggi Erdogan, non lo so, sembra un gigante, Erdogan rispetto a molti liberi europei, c'è il problema appunto dell'immigrazione clandestina che aumenterà anche perché non saranno mai le cooperative aperte o i porti chiusi a fermare milioni e milioni di disperati, che poi non sono più soltanto migranti economici, ma migranti climatici, stanno diventando migranti climatici. Quindi fondamentalmente, primo obiettivo separazione Europa e Russia per indebolire sì la Russia che però guarda altrove, ho fatto reportage sul reportage per raccontare il fatto che le sanzioni non stessero funzionando come ci si immaginava, ma soprattutto l'obiettivo della sanzione era un altro, e poi raccontare quanto i russi appunto stessero guardando altrove. Ho fatto reportage sulla zona dell'Amur, sulla zona del Volga, ma sempre più verso il Far East, arrivando appunto al confine con la Corea del Nord per raccontare come dall'altra parte del mondo si guarda la realtà, di come stanno cambiando alcune dinamiche economiche, come sta cambiando proprio in un certo senso l'ordine mondiale, il tutto a vantaggio della Cina e degli americani. della Cina e degli americani, con una Russia più debole, il fatto che si spinga sempre più tra le braccia di Pechino, per me, soprattutto per la parte della Russia europea, perché poi nella Russia asiatica la penso diversamente, però per la Russia europea è un fattore di debolezza, ma soprattutto è un fattore di debolezza per l'Europa, che avallando tutte le strategie americane, strategie disegnate, organizzate, ben strutturate negli ultimi anni, strategie messe nero su bianco, studiate a tavolino delle americane negli ultimi anni, si è indebolita a vantaggio degli americani e della stessa Cina. Per non parlare poi dell'indebolimento appunto della Germania, un obiettivo strategico americano, Europa si indebolisce indebolendo economicamente la Germania, il consolidamento poi della forza appunto nato in Europa, l'aumento delle spese militari, la nuova corsa e riarmo, a chi conviene? Sapete quali sono le prime sei aziende e produttrici di armi al mondo? La prima è la Lockheed Martin americana, la seconda è la Raytheon Technologies americana, la terza è la Boeing americana, la quarta è il Northland Grumman Corporation americana, la quinta è la General Dynamics americana, la sesta è la Bay System britannica. Le prime sei fabbriche di armi al mondo sono le prime cinque nordamericane e la sesta britannica, ovvero i paesi che più di tutti hanno spinto per la corsa al riarmo, per inviare decine e decine di tonnellate di armi a Kiev, quintali di denari incredibili, di fatto costringendo, costringendo, i paesi europei hanno accertato queste politiche folli, appunto di inviare armi su armi che poi dovranno essere ricomprate, le armi che si inviano poi sono ricomprate, spesso e volentieri le guerre, vengono anche combattute, perché soprattutto le ultime guerre in America, più che il Presidente degli Stati Uniti d'America, conta quello che viene definito il comparto militare industriale, ovvero gli enormi interessi che vi sono appunto nell'industria americana, in particolare l'industria bellica. Per poi non parlare appunto come ultimo obiettivo dei tanti obiettivi americani raggiunti appunto il rafforzamento del dollaro, non so oggi ma per varie settimane vi è stato il pareggio tra dollaro e euro, rafforzamento del dollaro, vi prego mettiamoli assieme, rafforzamento del dollaro, nuova corsa al riarmo con immagino sempre meno resistenze da parte dei paesi, nell'obbedire ai diktat della Nato, ricorderete anche quanto sotto Trump, Trump diceva qua spendete troppo per le armi, per l'industria bellica, bisogna aumentare, bisogna aumentare, bisogna aumentare, c'era Trump, ancora un po' si resisteva perché Trump non era ben visto, oggi che invece sono i democratici, che poi tra l'altro sono i più, soprattutto quando seguono la linea neocon, i più guerrafondai, comunque i più interessati ad ossequiare il comparto militare industriale, vedrete che ci sarà sempre di più la corsa al riarmo e gli obiettivi della Nato verranno raggiunti, ovvero aumenterà la quota del PIL dei vari paesi europei da spendere appunto all'industria bellica, rafforzamento del dollaro, discapito dell'euro, divisione tra Russia e Europa, senz'altro questo rappresenta un danno per la Russia, ma soprattutto un danno per l'Europa che sarà costretta sempre di più a legarsi mani e piedi all'economia americana, in particolare per quel che concerne appunto le forniture di gas, anche perché banalmente mesi fa Draghi, quando andò in Algeria, tra l'altro sbagliando anche Algeria con l'Argentina, ma per lui le GAF non sono GAF, sono lapsus, a lui era tutto concesso, ricorderete che in maniera molto orgoglioso disse l'Algeria è diventato il primo partner per quanto riguarda la vendita di gas con l'Italia, un paese storico, io rispetto moltissimo la mia compagna Franco Algerina, e rispetto molto anche la loro storia, la loro lotta di indipendenza che hanno fatto, è veramente un esempio, e l'Algeria di fatto ha chiesto di entrare, di far parte ufficialmente dei BRICS, ovvero quel gruppo di paesi, e vari paesi stanno cercando banalmente non soltanto l'Iran, l'Argentina, di far parte appunto dei BRICS, Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica, per potersi rafforzare in un certo senso, per guardare altrove, perché il mondo sta cambiando velocemente, l'hanno capito gli americani, l'hanno capito i cinesi, lo stanno provando a capire, poi non so se ce la faranno, ma comunque è difficile, lo dico sempre, buttare giù l'economia di un paese enorme, il più grande paese al mondo come la Russia, che è autosufficiente dal punto di vista energetico, alimentare, di produzione fertilizzante e anche dal punto di vista idrico, il paese che vanta probabilmente le riserve idriche più grandi del pianeta. Se pensiamo che nel centro della Siberia c'è un lago, che si chiama lago di Baikal, che soltanto lì vi è circa, escusi, le calotte polari, il 20% delle riserve di acqua dolce del pianeta, tutte contenute in un singolo lago, ecco, tutti lo hanno capito e si stanno muovendo l'Europa. Il fallimento europeo è sotto gli occhi di tutti, ecco, è successo tutto questo. Chi sosteneva appunto che occorresse porre fine alla guerra il prima possibile, proprio in virtù del fatto che questa guerra non soltanto causava morte e distruzione, morti tra civili, tra soldati, giovani, mandati appunto a morire, e soprattutto poi i più poveri, anche qui ho fatto un reportage nella zona di Ulanudet, da parte russa, ma fondamentalmente utilizzati gli ucraini anche come carte da cannone da parte della Nato, che ha condotto questa guerra per procura. Una guerra non più ucraina e russia, ma russia-nato in ucraina, e sono morte tante tante persone, anche durante le tante osannate controoffensive ucraine, anche qui poi ci sarebbe a lungo, dovremmo parlare a lungo, del ritiro russo da Khersona, perché spesso e volentieri i ritiri, i riposizionamenti fanno parte, ahimè, delle guerre, io mi auguro di no in questo caso, delle guerre di lunga durata. Pensate a... sto scrivendo documentari per l'OFT che ho realizzato in Russia, pensate alla campagna di Russia napoleonica, il ritiro, addirittura lasciarono Mosca, Napoleone e Giochino Murà entrarono a Mosca, diedero fuoco ai russi a Mosca e lasciarono Mosca ai francesi, per prendere del tempo e per poi, complice l'inverno, distruggere la grande armée, pensate alla battaglia di Borodino, che fu l'unica che venne combattuta grande, dopo quella di Smalinsk, e poi successivamente i russi si ritirarono, pensate agli enormi ritiri che vennero fatti dall'armata russa durante la seconda guerra mondiale, per poi, con la battaglia di Stalingrado, ma soprattutto la battaglia di Mosca, far partire la controoffensiva, li avrebbe portati da lì a un paio d'anni, circa due o tre anni a Berlino, dove entrò il maresciallo Zhukov, fa parte della strategia militare russa, anche, soprattutto poi, evidentemente, quando vengono commessi degli errori, quando si ha a che fare, non più con un paese con poche armi, alcuno dei paesi più armati al mondo, l'Ucraina oggi è uno dei paesi più armati al mondo, evidentemente, riposizionamenti, strategie, ritiri, anche ritiri tattici, fanno parte di una guerra di lunga durata, che io mi auguro che finisca domani, e, ripeto, oggi, forse per la prima volta, qualche speranza ce l'ho. Ma pensiamo anche a questi nostri guerrafondali di divano, che pontificano dal divano, quando, perché in tutto ciò il missile russo non è russo, ma è ucraino, i missili russi caduti in Polonia non sono russi, sono ucraini, anche se Zelensky insiste, anche in questo sta diventando pericoloso, pericoloso, Zelensky sta diventando pericoloso, se ne stanno accorgendo in tanti, ma, chi vosa dirlo, ancora forse blasfemo fare un'affermazione del genere, io lo dico da molti mesi appunto, me ne infischio di certe critiche, ma quando, credo che i missili, i cadaveri di quei disgraziati che sono morti in Polonia erano ancora caldi, i nostri politici, tra i politici più importanti, perché Letta è tuttora, insomma, uscente il segretario del Partito Democratico, ex presidente del Consiglio Calenda, no? leader del terzo, quarto polo, ex ministro, o giornalisti importanti come Riotta, hanno subito twittato, io li vedo subito, che bello, che bello, i russi hanno attaccato, avete visto, possiamo dire che avevamo ragione, che è il nuovo Hitler, che sta invadendo la Polonia, che dobbiamo rispondere militarmente sempre più forte, dai, 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 che forte, tuittiamo, tuittiamo, li vedo così, una roba patetica, proprio perché abbiamo a che fare con un ex presidente del Consiglio e un ex ministro della Repubblica, Letta, a fianco ai nostri amici polacchi, in questo momento drammatico, carico di tensioni e paure, quel che succede alla Polonia, succede a noi, come dire, se è attaccato alla Polonia, attaccate noi, e rispondiamo, con la Nato, con l'articolo 5, siamo pronti. Calenda va oltre, la follia russa generata dalle pesanti sconfitte continua, tra l'altro, chi sostiene, chi ha sostenuto e chi è stato massacrato, occhio a far prolungare la guerra, che gli ucraini sono tantissimo, dal punto di vista numerico, e superarmati e avanzano, faticosamente, tra l'altro al prezzo di migliaia e migliaia di morti, i russi possono rispondere con l'artiglieria, inviando bombe e missili, che spesso e volentieri stanno anche raggiungendo i loro obiettivi, perché, non lo so, c'è gran parte del paese, l'Ucraina, al freddo, al buio, in determinati momenti della giornata, è un dramma enorme. Poi parleremo nei prossimi mesi della ricostruzione, vedremo l'Europa come agirà e future divisioni, perché poi vedrete che i cocci saranno soprattutto europei sotto vari punti di vista, la follia russa, eccetera, eccetera, siamo con la Polonia, Calenda, con l'Ucraina e con la Nato, la Russia deve trovare davanti a sé un fronte compatto, i dittatori non si fermano con le carenze, gli appelli alla pace. Chissà cosa penserà oggi Calenda, appunto dopo aver letto le dichiarazioni del capo di Stato maggiore americano, dice forse questo può essere un momento buono per i negoziati, per una soluzione politica. Riotta va ancora oltre, attracco contro paesi con vittime, conferma che deriva il terrorista russa, non a guida, segue tutte le sue parole strane, fino a rischiare la guerra mondiale, eccetera, questo mi interessava, pensare di fermare il dittatore con la resa allo scatena, serve batterlo e isolare la sua quinta colonna in Italia e in un europeo. La quinta colonna, cioè, per lui faccio parte della quinta colonna, dobbiamo essere isolati, non possiamo parlare, ci dobbiamo isolare ancora di più, silenziamo queste voci che hanno avuto ragione per mesi e soprattutto occorre sconfiggere, fermare il dittatore, batterlo, batterlo militarmente, ovvero dobbiamo arrivare alla vittoria militare sulla Russia, che non è l'obiettivo americano, l'obiettivo degli americani era indebolire l'Europa, questo è stato il grande obiettivo degli americani, che l'Europa ha realizzato, indebolendo se stessa. Io neanche me la prendo con gli americani, che fanno i loro interessi, è la geopolitica, che ripeto, con la morale, con l'etica, hanno nulla a che fare, che le guerre di invasioni mascherate dalla missione di pace erano guerre etiche, i colpi di Stato fatti dalla CIA in mezzo mondo, in Iran, Mossadegh buttato giù per le nazionalizzazioni, Jacopo Arbenz, perché aveva osato in Guatemala dare delle terre incolte appartenenti alla United Fruit Company, l'attuale Shikita, e i contadini che non avevano terra, tra l'altro vi erano enormi legami tra la CIA e la United Fruit Company, ma anche legami, come dire, personaggi importanti, vi era a capo della CIA un uomo, come se era Landals, credo che è fratello di un avvocato della United Fruit Company, i colpi di Stato in Cile, perché poi Allende aveva nazionalizzato la produzione del rame, è tutto questo che ha a che fare con l'etica, buttare giù Saddam Hussein a che fare con l'etica, buttare giù Gheddafi per far fare affari, soprattutto alla Total, da parte francese e da parte anche americana, la Clinton, tra l'altro la Meloni era ministro quando c'è stata la guerra in Libia, oggi si parla di immigrazione, immigrazione, la Libia fuori controllo, arrivano i flussi migratori, è fuori controllo dalla guerra del 2011 con la russa ministro della difesa e la Meloni ministro della Repubblica, avallata dal governo Berlusconi perché su pressione napolitano, soprattutto Frattini era d'accordo, erano tutti d'accordo perché parlavano gli americani e ci si doveva mettere sugli attenti. Quello che dimostra questi nove mesi è che l'Europa non esiste, che è tuttora oggi con l'uscita della Merkel, uno dei grandi errori che ho fatto politici perché li ho commessi è stato criticare eccessivamente la Merkel che è evidente che facesse gli interessi della Germania, ma avevo un'idea di rafforzamento europeo che io non capia quando la criticavo, questo è stato un grande errore, uscita visce dalla Merkel, l'Europa sempre più debole, Scholz è uno che ha la Casa Bianca quando Biden davanti ha detto il Nord Stream finirà qualora i russi dovessero invadere l'Ucraina, il Nord Stream è un progetto nulla a che vedere con gli americani, è un progetto russo-tedesco, è stato zitto, ha accettato questa ingerenza incredibile, stando zitto, ma il problema non è degli americani che fanno ingerenza, il problema sono gli europei che accettano l'ingerenza. Quello che ci dimostra questa vicenda che mi auguro stia per finire, non lo so, però me lo auguro con tutto il cuore appunto l'inconsistenza politica dell'Europa che noi pagheremo nei prossimi anni con un'ulteriore perdita di quei veri masugli di sovranità che forse ancora avevamo, con politiche sempre più dettate da Washington, con il dramma appunto dei flussi migratori che dovremo affrontare, sempre più da soli, con l'obbligo sostanzialmente di acquistare sempre più gas americano a un prezzo molto molto alto rispetto al prezzo che ci garantivano i russi fino a qualche tempo fa e con un'Europa fondamentalmente divisa su tutto e la divisione europea, le divisioni europee poi convengono appunto agli americani perché tramite determinate divisioni, tramite l'inconsistenza europea possono utilizzare l'Europa per rafforzarsi e per fare la loro grande guerra geopolitica seppure economica chiamano questo modo l'avversario più forte che è la Cina paese che poi esce anche in un certo senso rafforzato a questi nove mesi perché comprerà gas, petrolio dalla Russia e sta investendo in Russia le case automobilistiche europee che producevano in Russia se ne sono tutte andate via e vengono via via sostituite dalle case automobilistiche cinesi per non parlare delle catene di supermercati indiani in Russia per non parlare dei grandi centri commerciali ne ho visitati tanti in Russia dove i brand europei dell'alta moda che avevano un mercato importante in Russia vengono via via sostituiti da brand cinesi che spesso e volentieri copiano tra l'altro i brand italiani o i brand francesi e tutto questo l'abbiamo detto da mesi ci siamo opposti da mesi abbiamo chiesto una strategia diversa da parte europea rispetto appunto alla strategia americana non siamo stati ascoltati e il problema principale è stata la presenza di politici senza spina dorsale di giornalisti senza spina dorsale succubi di Washington più realisti del re più realisti del re quando gli americani sono cauti e prudenti loro invece scatenerebbero la terza guerra mondiale questo è quanto spero di avervi fornito degli elementi interessanti di collegamento e andiamo avanti perché poi la strada per quanto meno l'indipendenza intellettuale è molto molto lunga ciao a tutti e buona giornata e condividete il video grazie a tutti